Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Shan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, andremo ad aprire insieme anche la seconda limited edition con gadget esclusivi di Demon Slayer, il numero 21 questa volta. Se volete, ho già fatto un video anche riguardante la prima limited edition, se riesco ve lo lascio sotto nel info box e il link. Abbiamo, tra l'altro, anche questa volta in un astuccio speciale, dei gadget esclusivi che comprendono degli sticker di ben 32 personaggi. Qui abbiamo una piccola anteprima. Una pregevole raccolta d'illustrazione dei protagonisti, 32 personaggi, con astuccio speciale. Se foste interessati, è edito dalla Star Comics al prezzo di 8,90€, come si può vedere qua sopra. Allora, tolta questa parte qua, diventa come il regular, perché è uscito sia in versione regular che così in edizione speciale. L'unica cosa che cambia, non c'è il prezzo 4,50€ quassù e c'è scritto non vendibile separatamente. L'astuccio speciale si presenta in questo modo qua, con i nostri due protagonisti, con la cornice in questo modo, che li racchiude. Volume 21, limited edition, sticker di 32 personaggi. In pratica è come se fosse una busta che si apre in questo modo e ci presenta il contenuto. Eccoli qua. Ve li faccio vedere un po' per volta, perché è grande come foglio. Allora, si inizia di qua. E poi si va da quest'altra parte. Devo dire, sono molto belle come illustrazioni, con colori molto accesi. E dietro, come potete vedere, è semplice così. Quindi, veramente molto belli. Devo dire, anche questa nuova limited edition ve la straconsiglio veramente tanto, come pure nel caso del numero 20. Gli ho graditi entrambi veramente tantissimo. Poi, tra l'altro, c'è anche un cartoncino qua da mettere qua in fondo per proteggerlo. Potete leggere tutti gli stickers. Quindi, un'altra edizione veramente molto bella. Detto questo, fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi è riuscito a prendere anche questa seconda limited edition. Se vi è piaciuto oppure no. Sarei veramente molto curioso di saperlo. E con questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!